Benvenuti nel mondo degli orologi Urban Jürgensen. Urban Jürgensen è un marchio di orologi di lusso con sede a Bienne, in Svizzera. È uno dei marchi più prestigiosi dell'orologeria svizzera, fondato nel 1773 a Copenhagen, in Danimarca. Ogni orologio Urban Jürgensen è realizzato a mano da artigiani altamente qualificati, che utilizzano solo i materiali più pregiati e le tecniche di lavorazione più sofisticate. La qualità artigianale dei suoi orologi è uno dei tratti distintivi del marchio, che garantisce un'alta precisione e affidabilità con l'utilizzo di movimenti al cronometro e la cura dei dettagli nella lavorazione dei componenti. Urban Jürgensen continua a essere un marchio molto apprezzato da appassionati e collezionisti di orologi di lusso. Chi è alla ricerca di un orologio di lusso, può trovare in Urban Jürgensen l'ideale sinonimo di eleganza, qualità e prestigio. Il design classico ed elegante degli orologi Urban Jürgensen è l'ideale per chi cerca un orologio di lusso che duri nel tempo.